cosa prepariamo oggi un dolce dopo tanto tempo ho preso tre uova e li ho messi in una bolle come sapete io preferisco il salato al dolce però a colazione serve anche quello e quindi lo facciamo poi ho preso un paio di cucchiai di zucchero le mie come al solito sono molto dietetici come come dolci ho iniziato con la frusta a mano ma poi ho detto ma sai che c'è visto che ce l'ho usiamo il frullino così si montano prima e il tempo è un terzo del tempo che tu ci metti con con quella a mano quindi montiamo per bene poi prendiamo uno yogurt io ho usato uno yogurt bianco che è quello da 150 ml e poi ho aggiunto 50 ml di latte ho usato sempre quello scremato tanto per stare nella consistenza dei grassi zero praticamente poi ho preso 150 grammi di farina farina con due r abbondiamo con le r invece che con i grassi 150 grammi di farina setacciata pian piano gliela amalgamiamo dentro con la frusta a mano va bene il lievito lo setacciamo anche quello intanto accendiamo il forno a 180 gradi e oggi andremo a fare dei bei dolcettini monoporzione una parte di contenuto lo mettiamo in un altro più piccolino in modo che adesso ci aggiungeremo dentro io ho messo 20 grammi di cacao amaro eccolo qua setacciamolo perché è pieno di grumetti quindi non lo setacciamo anche quello lo giriamo giro 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 ecco perché ho messo prima il lievito per per poi mettere anche il cacao quindi ho dovuto separarli se no mi toccava tenere una parte di lievito ho preso dei pirottini l'ho messi nel nel contenitore io avevo questo in silicone ho messo ho abbondato ogni pirottina però sono riuscita lo stesso a farne 9 ops è vivo poi ho messo una bella manciata di mirtilli glielo ho messi all'interno e per ultimo ho preso la parte che avevo formato con il con il cacao così l'ho fatto bicolore alcuni ho fatti bicolare bicolore e altri no perché non a tutti piace il cacao quindi vedrete delle differenze nei miei maffini forno acceso a 180 gradi come vedete io spengo la ventola e metto quello statico per circa 25 minuti tanto poi fate la prova stecchino e dopo 25 minuti eccoli qua c'è il suo perché c'è il suo perché perché il cacao con il mirtillo secondo me è azzeccatissimo è buono 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 lasciatelo raffreddare non fate come me ogni volta faccio gli stessi errori ops brucia brucia ok a ribrucia ok perché brucia davvero quindi eccolo qua all'interno è questo se vi è piaciuto come al solito pollice in su e io vi aspetto alla prossima ricetta ciao ciao